Siamo arrivati. Numero sei. Trovare la fragolina in mezzo al bosco. Non ricordavo che tu avessi questi problemi. Ok, adesso basta! Perché sei venuta qui? Perché mi hai mandato questa e-mail al cianuro? Cara mamma, sei sempre stata una madre orribile e un... Spero tanto che brucerai all'inferno. Ma prima di questo, voglio avere la mia vendetta. Ok, sono d'accordo con tutto quello che c'è scritto. Ma non te l'ho mandata io? Davvero? Chi altro avrebbe potuto chiamarmi? Madre orribile? Alan si è messo in te... Ma allora chi ha mandato questa e-mail? Chi ha mandato il messaggio? I sigari e il coltello ora ti stendo. Da dove sono usciti? Cos'è il coltello ora ti stendo? Per regolare i conti dopo due bottiglie di scoccia e qualche sniffata? Chi altro li avrebbe mandati? Non lo so, magari qualcuno che vuole farti andare fuori di testa. Ma pensaci un momento, chi avrebbe da guadagnare da tutto ciò? Chi altro potrebbe reclamare quel denaro? Quale denaro? Non c'è nessun denaro. No, non mi va. Alan! Abbiamo scoperto che ci sono dei diritti d'autore non pagati a nome di tuo figlio Charlie. Che cifra è? Più o meno due mila dollari e mezzo. Alan! Due milioni. Due milioni e mezzo di dollari circa. Ah, il bel collage commemorativo. Mi hai chiesto il certificato di morte per poter riscuotere tu il denaro. Sei un maledetto sporco. L'avresti fatto? Chi potrebbe rivendicare questo denaro adesso? Oh, oh, oddio. Maledizione, ha trovato la fragolina senza di me. Charlie? E basta, vuoi dirglielo o no? Abbiamo scoperto l'esistenza di una somma di denaro appartenente a Charlie. Davvero? Quanto? Due mila dollari e mezzo. Milioni, due milioni e mezzo di dollari. Chi ti ha detto di venire con noi? Sai, una cosa è quello che mi chiedo anch'io e non immagini da quanto. Mi ero dimenticata che fosse... ...trasferiti in un conto corrente alle Cayman. Pensate che sia stata io. Abiterei in un appartamento con una stanza se avessi tutto quel denaro. Non ho qui la lista, era la stessa di prima.